Sport, cominciamo con la pallavolo, pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità di un grande colpo di mercato in casa della Sir Susavim Perugia, alla corte di Lorenzetti, un fortissimo schiacciatore del sollevante. Vediamo con Luca Pisinic. Il primo e finora unico grande sportivo giapponese a Perugia fu i detoshi Nakata, calciatore che ha poi calcato palcoscenici prestigiosi. A distanza di 24 anni un nuovo rappresentante del sollevante torna nel capoluogo Umbro, ma questa volta giocherà con le mani ed è il fiore all'occhiello del mercato della Sir Susavim Perugia. Si tratta di Yuki Ishikawa, fino a poche settimane fa schiacciatore della Powerball in Milano. Perugia è una squadra fortissima e ha vinto tutto. Ho sempre desiderato giocare una squadra forte. Ho pensato che Perugia sia perfetto per me, quindi ho scelto questa grandissima squadra. Direttamente dal Giappone, dove il giocatore si trova, ora in ritiro con la propria nazionale in vista della VNL, Ishikawa si presenta alla nuova squadra e ai suoi nuovi tifosi. Il suo prodo a Perugia è notizia già di qualche settimana fa, ma ora è arrivata l'ufficialità. E non è un caso che sia arrivata proprio il 14 maggio. Basta guardare il numero della sua nuova maglia. Angelo è un allenatore grandissimo e poi quando avevo 19 anni, prima volta in Italia, ho giocato con lui a Modena. Quindi sono molto contento di giocare con lui ancora. Volei fargli vedere, sono cresciuto tanto qui in Italia da quando avevo 19 anni. Ishikawa, schiacciatore di grande talento ed elemento di livello internazionale, che nelle ultime quattro stagioni ha trascinato Milano a grandi risultati, di fatto andrà a coprire il posto lasciato libero dalla partenza di Leon. Inutile aggiungere che da lui Perugia si attende moltissimo. Mi danno tanta energia e fiducia e emozioni. Non vedo l'ora di giocare questa stazione con loro a pallavarto. Ci vediamo presto.